vi aspetto mercoledì 17 alle ore 17 30 sulla pagina facebook della provincia di cremona è l'occasione per presentare il mio romanzo psycho killer edito da sam nella rassegna che ormai mi vede ospite quasi fisso e affezionato giallo palazzo di paolo regina sarà un piacere ritrovare tutti voi questa volta sarò dal vivo online e non di persona sono sicuro che nella prossima occasione avremo modo di rincontrarci vi aspetto mercoledì ciao